Si sta avvicinando a grandi falcate, tanto per rimanere in tema, la straordinaria notte di Ferragosto dedicata al Gran Premio Città di Montecatini, appuntamento clou della stagione termale di Corse al Trotto. Nei giorni scorsi sono stati sorteggiati i numeri delle due batterie, dalle quali usciranno i nove cavalli che prenderanno parte alla finalissima in programma, ovviamente, nella stessa serata. Da un punto di vista tecnico, i favori del pronostico sono tutti per McGrace SM, guidato dal bravo Roberto Andreghetti, vincitore delle ultime tre edizioni. Proveranno a rendergli la vita difficile ONCR, Pietro Gubellini Insalchi, Osasco Di Ruggi, Enrico Bellei e la francese Non-Anne Le Pen, affidata ad Andrea Gocciadoro. Attenzione anche all'importato Picronos, che si è qualificato per questa grande Kermess, vincendo un'apposita corsa agli inizi di agosto. In quell'occasione il cavallo allenato da Eric Bondo era stato interpretato dal tedesco Wimpal, mentre venerdì sera con le briglie in mano ci sarà un altro bravo driver montecatinese come Federico Esposito. Nel clan c'è molta fiducia per una buona prestazione. Un cavallo sicuro, lui ha sempre prospettiva anche contro cavalli migliori, perché è un cavallo che segue tutte le andature e dà il suo in arrivo. Così, voglio dire, non è escluso che lui gioca un ruolo importante al gruppo 1. La serata sarà ricca di altre interessantissime corse e di numerose iniziative collaterali che termineranno con i consueti fuochi d'artificio, sempre molto apprezzati.